Per rivedere tutti questi villager con in giro che ci sono? Sì, erano quelli che stavano dentro la prigione, Steph Già, sono fuggiti per colpa nostra No, tua Tua Chi è che ha steso gli aguardi? L'abbiamo visto tutti, Steph Questa volta non sono stata io Hai lasciato tu i cancelli aperti Ed è stata tutta colpa tua Beh, ma dovevamo fuggire Sono stato un po' un eroe Dovevi fuggire in modo un po' più... Cioè, tipo fuggi, ma ti richiuditi le porte alle spalle No, vabbè, di solito quando si fugge da una prigione Si fugge tutti insieme in modo tale che comunque la polizia non sa più chi inseguire Eh, allora è colpa tua, le ha appena ammesso Eh, no, vabbè, eravamo insieme, quindi è colpa di entrambi In ogni caso, oltre ad essere fuggiti i villager, sono fuggiti anche i vari cattivi Quindi abbiamo fatto fuggire Baldi, Granni, Hit, Jason, eccetera, eccetera Tutto per colpa nostra Non si sa bene dove sono Però se ci pensi, li abbiamo già ritrovati nelle dimensioni E c'è un motivo Perché sicuramente erano già fuggiti dalle prigioni Quindi per colpa nostra sono in giro E di conseguenza dobbiamo sistemare le cose Quanto oltre lo devo sottolineare prima che lo ammetti, Steph? Non lo ammetterò mai Una squadra si assume le colpe insieme Sinceramente non so neanche se ti voglio aiutare oggi Cioè tu fai, io rimango dietro a guardare Vabbè Devi prendere anche la responsabilità delle tue azioni Bene, una squadra collabora, ok? No, noi non siamo Siamo una cosa unica No Te lo dimostro? No Quante mele d'oro hai? Quattro Quanto cibo hai? 64 Che spada hai? Di diamante Abbiamo le stesse cose Non è vero Il che dimostra che siamo una squadra Non ci provare, guarda, non funziona così Ragazzi, lo sappiamo tutti Comunque, che si fa? Non lo so Come non lo sai? Non è neanche un piano No, cioè stiamo andando in una prigione sfasciata Sì Dove tutti sono evasi a fare cosa? Non lo so Però so solo che ci dobbiamo far perdonare Ok? Questo è il mio intento Non so neanche se appena entriamo ci arrestano Francamente, quindi È probabile Occhio Però Io nel caso do la colpa a te Punto proprio il dito contro Non mi interessa Senza pudore Aspetta, aspetta Togli l'autogamp Oh mamma No, non ce l'avevo oggi Miracolo Ok Fere, questo qua è un messaggio Ok Praticamente i consolini avranno visto il video di Momo Prima di questo Dove ci sarà stato il primo indizio per scoprire il nome dell'assistente segreto numero 2 Ok Questo qua è un secondo indizio che va a confermare qualche persona che ha capito in parte il nome Ok Che va a confermare che la prima lettera del suo nome è l'H Quindi continua il mistero del suo nome Noi lo sappiamo Beh, ovvio Sono i consolini che qua stanno impazzendo a capire il suo nome Però dai, magari qualcuno ci è arrivato Lo devono scoprire loro e piano piano ci saranno sempre più indizi Comunque il togli l'autogamp è perché abbiamo sempre problemi Ma quello l'avete capito Ringraziami dopo Ma in realtà era off quindi per una volta Non so neanche perché era off proprio oggi Miracolo 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 Allora, in ogni caso, andiamo avanti Ok Vedo qualcuno lì in mezzo, una scritta verde Tipo, chi è? Il segretario E come lo raggiungiamo, Fer? Salve, aspetta, c'è una porta? Non credo Adesso, hey Hey Ti do una mela, avvicinati Ti do una mela Eh oh, che devo fare Ma cosa se ne fa, Fer? Ma ci può... È bruttissima, Steph, cavolo Poverino Allora Che si fa? Non lo so Io ho un'idea, ma non è proprio il miglior modo per farsi perdonare Che dici? Vuoi sfondare la segreteria? Sì Sì, direi, ti abbiamo sentito, eh Sì, il nome di Fer è un po' strano, in effetti Vediamo Ti abbiamo sentito, eh Ha davvero che figuraccia che ho fatto Eh già Ciao In ogni caso, mi è sembrato abbastanza inutile Però Aspetta Che cavolo è il capo a squadra Tra parentesi e non quello di Fortnite Ma che vuol dire? Ma non lo so Fer, ma io a questa prigione Ma, eh, Steph, è una prigione chiaramente di pazzi Possiamo andare a parlare un attimo con il segretario? Sì, no, mi fidavo più di lui, eh Vero? Sicuramente Cioè, il poliziotto ha criticato il tuo nome e fa bene Perché No, il tuo ha criticato Fer, nessun consolino sa ancora come si scrive il tuo nome Dopo due anni E vabbè, ma sono loro che sbagliano Che ti devo dire? No, è complicato Allora, quanto fa 15 più 18? Aspetta, 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 aspetta C'è la risposta sotto No, no, Fer, Fer non rispondere Vieni via Perché? Vieni via, vieni via, vieni via Perché? Perché secondo me C'è solo una persona che fa quel tipo di domande E non ci voglio avere nulla a che fare in questo momento Dai, no, vieni a rispondere Fer, seguimi Secondo me è fidato, Steph Fer, è presente Baldi? Eh Eh E se fosse lui travestito? Vabbè, scopriamolo Nel caso lo facciamo fuori Io E ti riscatti, Steph Per averli fatti scappare Io vado dal caposquadra di Fortnite Aspetta, dorme indietro No, 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 no Lui saprà come sconfiggere Baldi In ogni caso ho già notato Mentre stavo scendendo Che tutte le prigioni sono distrutte Ok Ah, sì Vedi? Sì, sì Sono tutte completamente distrutte E non c'è più nessuno all'interno Eh, ovviamente Direi che si è conformato il fatto Che comunque abbiamo davvero fatto evadere Tutti i peggiori cattivi di Minecraft In una botta sola Proprio strike in un solo colpo Vabbè, vediamo qua Ci dice lui E stiamo un po' attenti Salve vi chiamati io Due delinquenti la settimana scorsa Sono venuti in questo carcere E sicuramente hanno disattivato Le misure di sicurezza I detenuti più bricosi del mondo Sono evasi Ci serve il vostro aiuto Ma chi sono questi delinquenti, Steph? Esatto Ogni giorno sono sempre più stupito Certo che vi aiuteremo Esatto Va bene, indagate pure Riusciremo a risolvere questo caso Forse No, forse a fine frase mi è piaciuto Mi è piaciuto Eh, vabbè, Fede È colpa di questi due sconosciuti Potrebbero essere di più cattivi Dei sei cattivi scappati Quindi stiamo attenti Magari li potremo incontrare in giro Noi dobbiamo stare comunque molto attenti Allora A questo punto direi di partire dal segretario Perché secondo me Soltanto Baldi può fare quelle domande E dato che uno dei sei che è scappato è Baldi Potrebbe sapere qualcosa Dici che magari si è travestito E sta facendo finta di essere il segretario della prigione Per qualche motivo Che ne sai se sono scappati dalla prigione O sono nascosti nella prigione? Eh, beh Perché magari sono riusciti a scappare dalle celle Ma non dalla prigione E quindi magari si sono travestiti Allora, segretario Sì Quanto fa 15 più 18? Aspetta Ma non fa 36 15 più 18, Fede Eh, c'è scritto solo questo Io lo clicco Eh, ma è un inganno Lo clicchiamo Ma è sbagliato Eh, ma non hai altra scelta Eh, ma fa 33 36 Ma 33 ignorante Eh, grazie Va bene, puoi andare in cella adesso Tipo la cella numero 13 Ma dici E tu hai qualche idea? Aia, Steph Aia Allora, io sono entrata Come hai detto tu In una cella E un detenuto mi ha distrutto, Steph Cioè, mi ha dato due colpi Mi ha fatto malissimo Vede, ma In che cella sei entrata, scusami? Quella a fianco alla tua A fianco alla mia? Sì, sì Totalmente Quella a fianco Non sono andata così lontano E chi era il detenuto? Detenuto 05 Mi pare Qualcosa del genere Un altro numero Che brutto che è Un villager con l'ascia? Aspetta, non l'ho visto Ah Fede È Jason Non ti ricordi che aveva Quell'ascia lì di diamante? Io faccio fuori, eh Sì, certo che dobbiamo ucciderlo Il discorso è come? Non ti ha distrutto? Allora, due colpi e sono morta Vabbè Quindi, sai che faccio? Me l'adoro Me l'adoro Perché non me l'aspettavo Non ti posso aiutare in battaglia Perché è troppo stretto Questo posto Cavolo che male Aiutami, Steph Ok, ti sto dando una mano Ok, ok, ok Ho rubato la sua ascia Ok, quindi questa La consegniamo alla polizia Allora Te lo dico già Segnatelo nel tacchino No, la puoi usare come doppia arma Eri molto figa Sembra una guerriera Se l'avevo fatta apposta Ma ho detto magari è un po' eccessivo Quindi me la levo No, no, invece mi ispirava fiducia, sai Allora, vieni fuori Aspetta, mi faccio vedere bene Ok Quindi Jason l'abbiamo beccato Secondo me il segretario Baldi Ma avremmo conferma Soltanto più avanti Ce ne mancano altri quattro Allora Adesso vai prima tu, Steph No, mi sembra tutto a posto qua Qui praticamente C'è un piccolo corridoio E mi è venuto il dubbio E ho detto Che cavolo è? Se vedi però Ci sono dei messaggi Lasciati dall'assistente segreto Numero due Belli quadri, vero? E c'è neanche un altro Che controlla bene i quadri Però come ci dovremmo arrivare noi? Da questa cella fa? Non lo so No Molto ambigua sta roba Lo so Ho solo un modo Ho solo un modo Di nuovo devi sfondare Esatto Ma dai, Steph Allora, quindi Controlla bene i quadri E noi controlliamo bene i quadri Non c'è nulla 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 E non c'è nulla C'è già tra l'altro? Non è che magari a fianco? Belli quadri, vero? Sì, molto C'è qualche pulsante Grazie assistente segreto È sempre bello sbattere la faccia sulle cose Sperando di trovare un passaggio segreto Che in realtà non c'è Prova a premere un po' ovunque Magari succede qualcosa Non lo so Magari c'è qualche bottone nascosto Ed è difficilissimo da trovare Non ho idea Sono tornato a investigare anche in cucina Francamente L'ho trovato, Steph Cosa? L'ho trovato Cioè alla fine c'era? Sì Ma quanto era nascosto bene? Benissimo Alla fine ho controllato tutti gli accidenti di pareti Guarda Dove? Vieni qua Qua Dritto Ok I quadri secondo me erano messi lì un po' per distrarci Perché tecnicamente ti hanno tolto molto l'attenzione Infatti poi alla fine Allora questi mi sembrano tutti villager normali Con questo però non posso interagire Stiamo attenti a lui E qua c'è una gu... Che succede? Leggi bene il nome della guardia Guardi E ha dei palloncini in mano Allora, Steph Allora, però scusi Ok Lo vuoi un palloncino? Io forse ho paura di rispondere a quello... Torna nella tua... Non avevo neanche finito la frase, Steph Era già successo una volta Perché ogni volta devi rifiutare i suoi palloncini? Io gli ho detto di tornare nella sua cella Però non ho detto che rifiuto No Ti chiede voi palloncini Ci vai in cella È ovvio che stai dicendo di no Ci sei già schiettato l'altra volta Ogni volta ci devi ricascare Non avevo neanche finito la frase Eh, appunto Ok, vabbè Abbiamo trovato anche Hit Allora, facciamolo fuori Ok Eh, ho Hai sento lui Non credo che possiamo attaccarlo Come la scorsa volta ci si è rimasta male Ma l'hai detto Ma perché è inattaccabile? Perché è un'entità immortale, lui È più forte di noi Io faccio certo Ma sono presa con quella fianco, ok? Grazie a nessuno lo avevo voluto Tu sei il primo Ora posso ritornare nella mia cella Ho risolto Bastava accettare il palloncino a fare Vedi, basta essere gentili nella vita È pazzo Gli occhi neri Ottimo Sì, infatti è diventato un pochettino macabro Facciamo che mi allontanerò volentieri Andiamo via, andiamo via Allora, il concetto è Ok Ci mancano ancora tre, giusto? Abbiamo fatto Hit, Jason e Baldi Ci mancano ancora tre detenuti Sì E ora? Dove sto finendo? Non ho idea, cara Qui non lo so Non me la racconta giusta Non ti sembra ci sia un altro passaggio qua? Potrebbe Molto strano Boh, non lo so Eh, sì, Steph Non stiamo andando così tanto bene Ci manca un botto di gente Quindi non lo so Non so cosa fare Che si fa? Sicuramente c'è un altro passaggio segreto Eh, per forza Per forza Sì Però Dove? Ma chissà dove Non abbiamo altri indici Esatto Che succede? Non lo so Sono qua in una stanza in cui le pareti sono piene di diamanti Lo erano anche quando eravamo venuti L'avevo notato perché è molto particolare L'ho trovato, Steph Lo sapevo Vieni Vabbè Abbiamo capito chi dei due sa investigare meglio No A furia di non trovarli mai Ho capito più o meno come li mette l'assistente Quindi Te l'ho detto Questa parete sì Ok che c'era Però dà l'occhio Quindi tu vai qua Ed entri in un passaggio segreto Ma Ma Guarda, guarda Ma Se vai qua stiamo dove eravamo prima Sì Quindi c'era un altro C'era Ok Ok Cosa? Aiuto Sono finto in cucina Eppure io Abbiamo fatto tutto un giro enorme per finire in cucina Allora sto controllando che non ci sia qualcosa lasciato nelle fornaci No certo, certo Controlla tutto Le ceste ovviamente non possiamo aprirle perché sono messe così Non c'è nulla Non c'è nulla E ora? Non so Steph Eh lo so Cioè io ho trovato i passaggi segreti ok Ma ci hanno portato nella cucina Che non porta praticamente a niente Non lo so Sta diventando molto difficile sta roba Sta diventando molto molto difficile Oh ma ciao ti vedo un po' dimagrita 15 3 kg di pasta 63 barra 64 polpette No grazie ma resta un posto Non Non è no Tu non sei mia nonna Grandi ti abbiamo scoperto Oh no Torna subito nella tua cella Dov'eri? Qua Fere C'è la passaggio segreto Perché ho visto la scrittina E c'è la guardia nonna Io ancora non l'ho trovata Fere c'è di fronte Fere sei sopra Grandi in questo momento Ma non la vedo Come hai fatto a vederla? Ah perché è proprio nascostissima Esatto Esatto Ah ok Vabbè furba Sei nascosta nelle pareti Grazie al cavolo che non la vedo Allora ci manca Slenderman e Slenderina Sì Che saranno insieme probabilmente Allora abbiamo trovato Recap Abbiamo trovato Baldi Abbiamo trovato Jason Abbiamo trovato Hit Grani sì Loro due Loro due Allora loro piacciono le foreste Ma qui io non vedo indizi Per una foresta Steph Quindi Mi è venuto un dubbio E se fossero nascosti Nelle loro celle? Eh ho pensato la stessa cosa pure io Vero? Andiamo a vedere? Sì Assolutamente sì Allora vediamo Prima quella dello Slenderman Vieni Sì mi ero un attimo perso Scusami Ok Ma che cavolo fai Steph? Bene stavo ricontrollando Che non ci fossero altri passaggi Ok allora Quindi Tu stai controllando quello E io controllo quelle di Slenderina Infatti sono anche vicini Trovato Steph Trovato Aveva ragione Sì Passaggio segreto qua Maledetto Nell'albero Te l'ho detto che gli piacciono le foreste Allora Oh no mi hai trovato Stavo cercando mia sorella Ma si perde ogni volta Tentando di fare gli scherzi E proprio i famiglia Sono imbecilli Ok Una è andato Adesso l'altra dove si è cacciata Che è quella Cioè quella che mi fa più paura Slenderina A me preoccupa sempre molto Ok Ok Steph Anche lei è nascosta qui Dentro Dove? Qua non la vedi Oh cavolo Aiuto Anch'io se sarete indietro Vi sto soffacciando Boo Slenderina Sei imbarazzante Finalmente glielo possiamo dire Finalmente glielo Perché fa sempre solo quello Quindi è diventata più brutta O sbaglio Cioè più spaventata Vabbè ogni volta è uguale Mamma mia Cioè fa una paura incredibile È proprio brutta Poverina Ma Ok Quindi era un passaggio Un po' verso sottoterra Sì 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 Molto strano Molto strano C'abbiamo fatta fare Tutti e sei? Li abbiamo trovati tutti Ok Quindi adesso Andiamo a dirle A dirlo alla guardia Non quello di Fortnite Gli diciamo che tutta posta Si arrangiano Li rimettono Ma stai mettendo i quadri? Sì perché Ho capito che i quadri Piacciono a tutti Allora Capo squadra Li abbiamo trovati Pensateci voi a metterli nelle celle Abbiamo anche modernizzato la prigione Sì Non ne voglio più sapere di sta prigione Di questi cattivi Steph te lo dico Basta Guarda comunque Qua non ho rinforzato la sicurezza Hai visto? Però se riusci Come hai fatto a passare Ah Che sicurezza Stephanie Che ci siamo dovuti impegnare Per scappare da qui Ma che cavolo Siete penosi Ci credo che la gente evade Eh no è la verità Comunque noi ci siamo riscattati Quello è l'importante E quindi Siamo tranquilli Qua sotto Come sempre Comparatevi in altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao